Un altro ottimo libro sul denaro e la moneta è questo di Gary North e Francesco Carbone dal titolo Che cosa è il denaro? Edizioni USEM Lab Comprendere cosa sia il denaro è condizione essenziale per continuare a vivere in una società libera. Ricordiamo anche che Francesco Carbone è l'autore del podcast Il Truffone cioè il truffone monetario, il più grande esperimento economico di tutti i tempi. Questa creazione di quantità immense di denaro dal nulla che rappresentano un esperimento economico che nessuno sa come andrà a finire. Leggiamo dunque proprio dal sito USEM Lab fondato da Francesco Carbone la recensione di questo libro Che cosa è il denaro? Leggendo questo libro possiamo comprendere l'intera questione monetaria e la maggior parte delle altre questioni economiche. Gary North affronta questioni importanti con rigore ma anche con un linguaggio diretto semplice e comprensibile. È un libro destinato al grande pubblico. Non dimentichiamoci che la libertà si fonda sulle libertà economiche e in un'economia moderna le libertà economiche partono tutte dalla libertà di possedere il denaro. Tuttavia oggi non possediamo il denaro, lo usiamo, lo facciamo girare, ma non è più nostro. Comprendere cosa sia il denaro è la condizione essenziale per vivere in una società libera. Gary North è uno studioso di economia che ha approfondito l'approccio della scuola austriaca di economia. Grazie a tutti.